Siamo stati fedeli a quello che ci ha divertito per tanti anni. L'ultima volta è stato un divertimento amaro perché l'ha ricordato Carlo, l'ha ricordato Luca, Peppino. È stato veramente un anno orribilis quello, un periodo tremendo. Però l'amicizia, il rispetto che abbiamo tra di noi ci ha portato comunque a conclusione, a concludere un percorso iniziato da Alberto quell'anno e concluso con grande rispetto da Luca. Ci siamo aiutati, ci sono stati anche dei momenti, voglio dire, di tensione perché mancava Alberto, mancava lui, mancava questa figura importante. Però siamo andati avanti e questo film credo che appunto rispetti a pieno tutto quello che è stato fatto in questi più di vent'anni. Per me il ruolo di Mimi è quello che mi poteva capitare di meglio quando è successo. L'ho portato avanti fino adesso cercando di divertirmi sempre. Però quando ci sono gli scritti di Andrea, voglio dire, il divertimento per un attore è sempre assicurato. Poi si è creato veramente tra di noi un'alchimia che basta guardarci, non dobbiamo nemmeno dire quello che dobbiamo fare. C'è veramente una conoscenza con Luca, ci conosciamo con Peppino, ci conosciamo già, sappiamo dove andremo a parare. E questo magari fosse sempre, succedesse sempre in ogni set, significherebbe che si farebbero tante cose molto più belle. Siciliani e calabresi sono, diciamo, cugini stretti, sia per modalità di approccio all'esistenza, per dimensione culturale. E i dialetti non si assomigliano, ma comunque stanno in una dimensione, diciamo, dal punto di vista sonoro, quindi ve l'orecchio molto vicina. Per cui non è stato quello, diciamo, un grande sforzo che ho dovuto, insomma, in qualche modo sopportare all'inizio. La difficoltà era che ero semmai molto giovane, molto inesperto e quindi chiaramente non mi sentivo così sicuro ad affrontare appunto una modalità recitativa, come diceva anche Luca, che risulta leggera, godibile, piacevole, vincente, ma che è molto difficile da tenere in piedi, perché si gioca su un filo molto sottile, un passo oltre e si va appunto ad esagerare, un passo indietro e si fa troppo poco. Per cui noi negli anni siamo riusciti, insomma, a calibrare questa cosa e a farla diventare quasi una modalità diciamo quasi esclusiva di Montalbano. Sono d'accordo con Luca quando dice appunto che questa modalità espressiva trasportata in un altro prodotto non sarebbe altrettanto efficace. Per cui sì, la difficoltà più grande all'inizio soprattutto è stata questa, di trovare questa misura. Poi una volta che l'abbiamo trovata, ci abbiamo sguazzato dentro felicemente e continueremo a farlo se ci sarà, insomma, occasione nei prossimi anni.